buongiorno a tutte quindi vi faccio solo vedere questo cestino prima di iniziare il tutorial che io uso per mettere qua tutti i miei gomitoli in realtà il lavoro che sto eseguendo lo metto qui i gomitoli cosa meno magari quando ce l'hai per terra non vanno ovunque comunque sia quello che vedete nel prossimo video quello che ho usato per realizzare questo vestitino estivo e poi vi faccio vedere vi ho detto che non ce n'è bisogno di 11 forse 12 in realtà hanno usato i 12 ma questo era un resto di quello che già avevano abbiamo bisogno di 12 gomitoli da 50 grammi questo è cotone e quindi l'uncinetto è da qualche si può usare tre e mezzo quattro e mezzo quindi sono molto facili da trovare se non trovate la stessa marca e non troverete simili vedete qua metto l'uncinetto metto il mio ago un metro perché è un cosigno di un metro per misurare la lunghezza e la del vestito e soprattutto la circonferenza del corpo io quello che ho fatto è che per sapere più o meno quanto devo fare ha fatto da 44 45 ogni pezzo per ora ho misurato la circonferenza del mio corpo e ho tolto qualche centimetro perché comunque resta molto morbido il vestito quindi non è che dovete fare se siete per esempio 100 di giro il giro del sedere diciamo dovete fare da 100 io sono un giro da 100 appunto ma è fatto comunque 45 centimetri per due fanno 90 ma sono sufficienti come vedete sulla foto del modello quando lo porto quindi vi ringrazio e spero che questo video vi piace e quindi adesso vi farò vedere il materiale e buon lavoro a tutte per realizzare questo vestito avete bisogno di 11 massimo 12 di questi gomitoli questi sono gomitoli da 50 grammi in 100 per cento cotone e qua come vedete l'ago dall'ago comunque sia l'uncinetto da usare 3,5 fino a 4,5 quindi questi in usati 11 ma ne sto mettendo un dodicesimo per terminare cosa mai se ne ho bisogno un uncinetto da 4 una forbice e uno di questi di queste spille guarda tutto quello di cui avete bisogno è veramente un vestito che costa poco perché qua in svizzera questi qui costano due franche 50 se non erro quindi con 25 30 franche 30 franche l'incirca vi fate il vestito quindi qui ho già iniziato una parte la parte destra lo sinistro uguale del davanti e qua poi verrà la scollatura v quindi ho iniziato il lavoro di delle catenelle più le maglie alte e poi questo disegno poi di nuovo ci sono tre linee di questo disegno di nuovo le maglie alte tre linee del disegno le maglie alte 3 del disegno qua le maglie alte per finire il giro che non chiuderò perché qua poi andrà continuare quindi diciamo più che altro non è qua lo scollo del seno andrò a continuare direttamente sull'altro pezzo che andrò a creare insieme a voi quindi qua sono certamente 5 centimetri 24 25 centimetri io l'ho fatto per avere una circonferenza totale circa di 100 100 centimetri l'ho fatto secondo del mio giro di non di vita quello intorno al sedere cosa almeno quando lo infilo sarà un po più aderente al sedere e sopra fluido ok quindi questo lo lascio da parte neanche taglio il filo sulla mia questa qua l'ho lasciata così ci metto giusto un gancetto per cosa meno non si rovina tutto il lavoro fatto e poi andrò a continuare una volta che avrò creato lo stesso con questo lo arrotolo quando lo metto la carta in realtà è molto semplice quindi andiamo a fare il nostro punto di inizio perché sempre la ripetizione dello stesso disegno abbiamo il nostro modo andiamo a fare le 41 catenelle che ci faranno da base per le 41 maglie alte più 2 quindi andiamo a fare le nostre 43 catenelle una volta finite le nostre 43 catenelle andiamo a creare la prima maglia alta quindi ma prendere il filo e contiamo 12 e nella terza entro una terza catenella e faccio la mia maglia alta la seconda catenella l'altra mia maglia alta qua siamo già a tre a primo due tre poi vado a fare quindi tutte maglie alte per in totale averne 41 proprio questo è un lavoro semplicissimo c'è chi la prende sopra o chi la prende sotto che la prende dietro la catenella per fate un po come voi preferite ma in realtà della maglia alta e prendere il filo una volta non metto all'interno della catenella tiro fuori il filo lo riprendo lo tiro fuori e un'altra volta deve fare così tutta la nostra linea quindi una volta la linea terminata con le mie 40 41 maglie alte andiamo a fare 5 catenelle 5 e giriamo il nostro lavoro e qua sarà il lavoro un po più difficile e qua da qualche parte più che altro è una ripetizione però è una linea diversa dall'altra quindi bisogna veramente ricordarsi i punti a prendere il filo due volte andiamo a contare 123 entro nella quarta prendo il filo quindi facciamo una maglia altissima però non la chiudiamo la passiamo due volte poi riprendiamo due volte il filo andiamo a contare 12 e nella terza riprendiamo quindi rifacciamo un'altra maglia altissima ma a questa volta la chiudiamo un attimo che mi è scivolato chiudiamo e qui andiamo a creare una v al contrario ancora 3 catenelle che saranno sempre le distanze che useremo su questo schema ecco andiamo a creare una vera v quindi nell'altro lato prendiamo due volte il filo andiamo a contare 123 nel quarto andiamo a fare una maglia altissima e questa volta andiamo a chiuderla due catenelle e di nuovo due volte il filo e nello stesso buco di prima andiamo a rifare un'altra maglia altissima ecco abbiamo creato una punta ogni triangolo nel senso e un triangolo nell'altro ora di nuovo 3 catenelle doppio filo e contiamo una due tre all'interno del quarto andiamo a prendere non lo chiudiamo come prima di nuovo doppio filo 123 scusate 123 quindi lasciamo due vuoti riprendiamo di nuovo la nostra maglia altissima ma questa volta la chiudiamo ora 3 catenelle prendiamo due volte il filo e 1234 andiamo quindi a fare la nostra maglia altissima 1 2 3 4 2 catenelle di nuovo nello stesso buco un'altra maglia altissima ecco qua questo è il lavoro quindi arriviamo fino alla fine della linea così quindi qua abbiamo lo lasciamo tre vuoti nel quarto andiamo a fare la v i quali lasciamo solo due poi di nuovo tre vuoti nel quarto andiamo a fare il disegno tre vuoti nel quarto andiamo a fare la prima maglia altissima non chiusa due e ce ne lasciamo due senza niente e di nuovo andiamo a chiudere la nostra vuoto tre maglie che non prendiamo e ne andiamo a lavorare la quarta proseguiamo così fino alla fine della linea arrivati alla fine andiamo a fare 3 catenelle devo fare una maglia alta nella prima che qua il filo semplicemente all'interno così tiro fuori il filo andiamo a chiudere ecco abbiamo finito la seconda linea di lavorazione quindi andiamo a creare ora il disegno che verrà quindi tiriamo il nostro lavoro e facciamo 5 catenelle quando abbiamo la v in questo modo quindi all'insù andiamo a fare una maglia bassa quindi entriamo proprio all'interno della v e del triangolino prendiamo il filo e chiudiamo e viene fuori questo poi tre catenelle quando invece abbiamo il triangolo in questo senso andiamo a creare quattro maglie alte all'interno 1 2 3 e 4 ora di nuovo 3 catenelle abbiamo di nuovo questa così quindi qua andiamo semplicemente a fare una maglia bassa 3 catenelle ora quattro maglie alte una due tre quattro tre catenelle quattro maglie alte 2 2 3 3 4 3 catenelle di nuovo qua una maglia bassa 3 catenelle e poi qua vado a contare l'acqua ognuno 2 3 e in questo buco vado a fare una maglia alta ecco qua e questa è la seconda linea come vedete comincia a costruirsi il disegno cioè la seconda linea della greca ma sarebbe la terza ora andiamo a ripetere lo stesso che abbiamo fatto all'inizio ma lo facendolo nei buchi quindi quindi tiriamo il lavoro e facciamo 5 catenelle in questo buco qua andiamo a creare una v al contrario quindi prendiamo doppia volta più filo vogliamo fare una maglia altissima non ci infiliamo quindi ci infiliamo di nuovo nel buco di prima andiamo a prendere il filo e facciamo questo non la chiudiamo si dobbiamo chiuderla questa è l'altra che non si chiude la chiudiamo 2 catenelle doppio filo quindi un'altra doppia maglia alta all'interno dello stesso buco ecco qua e qua esce questo modino ora 3 catenelle e qui invece andiamo a farla nell'altro senso quindi così prendete due volte il filo e andiamo nella prima maglia alta all'interno prendete il filo tirate fuori e fate scivolare su due dei fili riprendete doppia volta e andiamo su questa volta nell'ultima maglia alta di nuovo due volte e poi quando è così si chiude tutto il lavoro vedete vedete esattamente lo stesso disegno che abbiamo creato qua ora 3 catenelle prendiamo due volte il filo all'interno qua vediamo due catenelle due volte il filo con di nuovo un'altra maglia altissima 3 catenelle due volte il filo andiamo nella prima maglia alta non chiudiamo il lavoro quindi due volte il filo andiamo nell'ultima maglia alta e poi prendiamo tutte e tre gli ultimi 3 e così abbiamo ricreato nuovo questo di nuovo sempre 3 catenelle questa è proprio la ripetizione che andremo a fare sempre io arrivo alla fine della linea e vi faccio vedere una volta arrivata alla fine vi troverete un po' così queste possono incollarsi un po' insieme andate proprio a separarle quindi andiamo a fare 3 catenelle prendiamo il filo per fare la maglia alta andiamo a contare da questa qua una due tre entro qui prendo il filo e faccio la mia maglia alta della chiusura di questo giro ecco qua ora andiamo a ricreare la stessa che abbiamo fatta qua quindi giriamo il nostro lavoro 5 catenelle e ora quindi qua abbiamo una v così quindi quando e vero 4 maglie alte 1 2 3 scusatemi un po di raffreddore 4 3 catenelle e qui andiamo a fare una maglia bassa 3 catenelle 4 maglie alte 1 2 3 4 3 catenelle e qua di nuovo quindi una maglia bassa continuate sempre con lo stesso schema qua come abbiamo fatto poi per girare l'avete visto lo riprendo un attimo quello di prima quindi in realtà io qua guardando come ho iniziato così e metto quello che stiamo facendo adesso a fianco quindi qua abbiamo fatto la nostra prima prima le alte poi abbiamo fatto questo disegno abbiamo fatto questo nodo abbiamo ricontinuato e ora stiamo facendo questa linea qui di preciso quindi in realtà se vedete bene andiamo a ripetere lo stesso lavoro fino a che non otteniamo tre linee di disegno e poi facciamo i nostri 41 maglie alte di nuovo in realtà dove avete poi due catenelle andate a fare due maglie alte le due catenelle sono qua dove avete tre catenelle e tre maglie alte qui andate all'interno comunque vi farò vedere come faccio è molto semplice poi andremo a ripetere questo fino alla fine del vestito bisogna solo ricordarvi che per tre greche due e tre il lavoro resta così poi andremo ad aggiungere le due parti insieme quindi ecco io ho fatto la mia prima zona ora devo andare a fare la stessa cosa quindi 41 maglie alte qui e per farle vado a prendere quindi dove ci sono per esempio quattro catenelle vengono tre maglie alte qua due catenelle e due maglie alte poi qua questa viene lavorata normale quindi vi faccio vedere c'è chi fa le maglie alte con due catenelle o con tre una volta che avete girato il lavoro ne faccio due e poi vado a prendere qua ce ne sono tre quindi vado a fare tre maglie alte quindi una due e tre ora vado ad entrare qua e qua su questo giro siamo già a 5 maglie alte perché questa viene alla prima viene contata con maglie alta quindi continuiamo qua ci sono due catenelle andiamo a fare due maglie alte vedete perché qua era l'interno della della di sotto poi qui una maglia normale qua dentro e così via fino alla fine della vostra linea tutta quanta e arriviamo a 41 maglie alte una volta che avete fatto qua e iniziamo di nuovo a fare il disegno da capo quindi 5 catenelle e poi vi faccio vedere come ho fatto io come ho fatto io per l'inizio della parte di davanti quindi avete questa qua quella che abbiamo visto adesso poi si ricomincia la seconda volta di nuovo 41 maglie alte e la terza volta l'ultima sopra poi andremo a mettere queste due parti uno e due fianco e qua andrà a fare lo scollo della maglia davanti e poi andremo infatti qua mi sono bloccata queste catenelle andremo a continuare il lavoro con quella che devo finire adesso qua ecco qui ho finito quindi tutti e due i pezzi della parte davanti qua mi sono fermata come vedete prima di continuare questo lavoro perché adesso andremo ad unirli e qui andrò a tirare il filo per chiudere il lavoro adesso l'ho bloccato con con una piccola spilla quello che faremo su questo pezzo è che in realtà vado a prendere il filo lo taglio e lo tiro fuori e di qua è bloccato ora vi faccio vedere come leggo i due pezzi e poi si ricomincia sempre lo stesso lavoro quindi poi non ve lo faccio vedere lo avete già visto perché è lo stesso lavoro di questo allora quindi qua vado a fare 41 maglie alte più 41 qui sono già arrivata a 39 40 e 41 e poi vado a prendere qui e qua ne devo fare due quindi un po' stretto non mi passa ecco un cinetto quindi una due e poi entro qua e continuo fino alla fine della linea ad arrivo a 41 oppure su questo io qui ho finito quindi i 41 e 41 e adesso rifaccio lo stesso schema vedo come mi esce la prima linea e ve la faccio vedere e poi in realtà e faccio la lunghezza del vestito che desidero ma ve lo misurerò una volta terminato quindi qui è venuto così che continua un po' come quello di sotto invece di qua visto che ho dovuto girarlo per farmi finire il filo da questa parte in realtà per poterlo poi chiudere qua dentro e nasconderlo ho girato il lavoro e qua quindi mi esce più o meno specchio ma tanto in realtà non si nota e qui ho dovuto un attimino mangiare uno in più nel senso che normalmente quando voi fate questo qua dovete contarne una, due, tre nella quarta entrata e io sono entrata un po' così dentro il buco ma alla fine poi il lavoro è lo stesso quindi riusciamo a fare proprio lo specchio adesso dovete continuare a rifare lo stesso per tutto il lavoro quindi per tutta la lunghezza che desiderate del vestito allora ecco io ho finito la parte dietro e davanti disperso la luce non è molto forte perché è sera ma almeno vi faccio vedere come faccio per finirlo queste sono le misure quindi questa è la parte dietro e misura un metro preciso su circa 44 cm l'ho fatto secondo anche il mio giro di corpo sapendo che comunque sia un pochettino si può allargare come vedete ho fatto una due tre quattro cinque sei set otto nove bande potete farlo lungo quanto volete e adesso vado ad assemblare davanti e dietro quindi dell'undicesimo di gomitola a me mi resta ancora questo che è un po' più della metà quindi adesso dovete fare attenzione al disegno metterlo bene nello stesso senso io so che qua dove ho messo la mia spilla è la fine del vestito quindi vado a riprendere la parte davanti e vado a metterla proprio sopra e se notate il disegno qui e qui e nello stesso senso poi andate proprio a mettere riga per riga sopra poi l'uncinetto ha tendenza a muoversi ma come vedete alla fine poi ritroviamo le stesse misure e noi quello che andiamo a fare adesso una volta che l'avete sistemato per bene è cucire quindi prendo di nuovo il mio metro non so se si vede meglio su questo angolo qui e andare a cucire lasciamo 25 cm e poi dai 25 cm dall'altezza quindi della spalla fino a sotto andiamo a cucire qui e la stessa cosa sul lato opposto quindi qua 25 cm che fanno più o meno uno o due alla fine qua esattamente alla fine della seconda linea iniziamo e andiamo a cucire tutta la parte sotto qui poi andremo ad assemblare anche la parte del collo quindi questo qui e questo qui io quello che faccio per non essere proprio precisi vado a stringere leggermente mi creo come un plisse qua sopra ma proprio sulle prime due linee così giusto da poter avere un buco di 3-4 cm qua al centro dove verrà posizionato il collo una volta che avete cucito questo e quindi da 25 cm in giù vi faccio vedere come fare il bordo un po' arrotondato sia qui che sul fondo del vestito allora riprendo questa qua che ho lasciato così in sospeso e vado a riprenderla con l'uncinetto quindi inizio dal fondo poi io so dove devo fermarmi per l'altezza della manica e quello che faccio quindi mi riporto qua il filo è molto semplice qui già prima di tutto vorrei crearmi un modo però forse è meglio sparire da andare avanti quindi vado semplicemente nella prima e vado a fare delle maglie bassissime vedete per tutta la lunghezza quindi vado a prendere proprio il filo e vi faccio delle maglie bassissime e poi vado con questo filo che mi restava della parte davanti vado con l'ago che mi sono dimenticata di dire che ci serve anche un ago a rifinire quindi a nasconderlo qua dentro e lo chiudo bene quindi voi fate così fino a come vi ho spiegato prima quando riprendo il vestito lasciamo le due prime righe e poi il resto si cuce insieme quindi fino a qui potete anche se volete prendervi diverse spille come questa e vi ricordate il punto dove vi dovete fermare che è qui e ne mettete diverse per vedete ne mettete una qua ogni volta dove avete le righe cosa almeno siete sicuri di essere giusti oppure se volete andare così a occhio riuscirete comunque perché vedete io cado sempre sopra la linea e poi dall'altra parte invece di iniziere un nuovo filo qua continuo con il lavoro di prima invece dalla parte opposta rimetteremo un filo nuovo io sto andando avanti con il lavoro e come vedete la cucitura laterale poi si nota quindi questa parte vedete fa un po' spessa questa parte poi sarà all'interno del vestito quindi voi la volta che avete cucito tutto andremo a girare il nostro lavoro e poi quello che potete fare anche ogni tanto qui per rendere più facile è un nuovo passato all'interno per comunque si are andate sempre a prendere il filo un po' alla volta è la parte più noioso è proprio questa l'assemblaggio poi io entro comunque dentro su qualche punto e poi riprende di nuovo il mio filo e continuo così quindi ricordate infatti due lati la parte sopra come vi ho spiegato e poi giriamo tutto il lavoro quindi ho finito la cucitura sul lato e ho girato il mio lavoro in realtà non si è noto neanche moltissimo come avevo fatto la cucitura poi andiamo a prendere per esempio qui e andiamo a creare quindi come degli archetti sotto sul fondo del vestito quello che faccio e poi vado a creare un nodo qui scusate forse non l'avete visto qua vado a creare un nodo ma intanto vado con il mio uncinetto tiro fuori e faccio uno due tre quattro cinque sei e sette catenelle ora vado a chiudere questi due fili insieme e qui quindi vado a creare non so se si vede bene spesso il vestito dall'altra parte ops vado a creare come un archetto così però sette catenelle è troppo piccolo quindi vado a farne ancora due in totale sono nove catenelle quindi qua abbiamo le 80 maglie alte di sotto su un lato più 80 dell'altro quindi sono 160 ora andiamo a prendere dei gruppi da 5 quindi uno due tre quattro e cinque e qui vado a chiudere con una maglia bassissima vedete e ora vado a fare la stessa cosa quindi uno tre quattro poi in realtà mi rendo conto che forse nove sono troppi quindi ne togliamo altre due e restiamo quindi su sette sulla prima opzione riprendiamo quindi uno due tre quattro cinque facciamo una maglia bassissima e quindi facciamo sette catenelle uno due tre quattro cinque sei e sette quattro di prima e ricontiamo cinque una due tre quattro cinque qui una maglia bassissima ho preso molti più di cinque perché visto che sono centosessanta maglie in totale arriveremo giusti qua quindi adesso vado a fare la stessa cosa tutto il giro uno due tre quattro cinque sei e sette e riconto uno due tre quattro cinque qui una maglia bassissima e di nuovo uno due tre quattro cinque sei sette e di nuovo uno due tre quattro cinque e finisco così il giro con questi archetti mi ha finito i miei archetti e sono arrivato a quella alla fine ora andremo a creare catenelle che fanno una maglia alta e poi qui andremo a fare dieci maglie alte quindi una due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci al centro dell'archetto successivo una maglia bassissima e poi di nuovo dieci nell'archetto successivo dicine alle alte uno due tre tre ops quattro cinque sei sette otto nove e dieci e dieci nell'archetto successivo una maglia bassissima messo al centro del cerchetto vedete come lascia fuori escono fuori le nostre ondine di fine vestito quindi di nuovo qui dieci maglie alte nel archetto successivo quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci una al centro dell'archetto successivo continuate così fino alla fine della linea spero che notate ecco come viene poi il lavoro tutto sulla parte bassa del vestito quindi sono arrivata alla fine e qui io vado a chiudere con una maglia bassissima proprio qui avevo fatto le tre catenelle la prima quindi maglia altissima alta scusate e qui mi chiudo tutto il lavoro ora vado a tirare il filo e quindi vado a notarlo insieme a questi altri poi insieme a questi qua vedete io nascondo i fili una volta che ho finito tutto il vestito così appunto se ci sono altri fili si possono andare insieme e vengono nascosti qua e tagliati ora faccio vedere il risultato tutto il giro sotto è perfetto perché essendo i numeri pare andiamo a chiudere anche perfettamente qua ora andiamo a fare lo stesso genere di lavoro sulle maniche quindi soppre con le maniche qua per avere una piccola onda intorno alla manica sulla manica quindi per tirare un po' il filo e qui non ho giustamente le maglie sotto quindi dovrei andare a creare degli archetti un po' come riesco quindi andiamo a fare una due tre quattro cinque sei e sette e andiamo a vedere dove potrebbe capitare qui per esempio sono messa qua vedete mi fa un marchetto della stessa altissima adesso dobbiamo cercare un po' con la nostra immaginazione dobbiamo cercare questi archetti quindi ho fatto uno due tre quattro cinque sei e sette ecco e sette tutto qui e fate fino al alla fine sperando che le ascono pari così da poter riuscire a fare un bel disegno a fare un bel disegno a fare un bel disegno interno di questo lavoro vado un po' avanti mi rapprendo il filo da dietro mi lascio due archetti liberi intanto vado avanti vedete ancora qui e poi qua una volta che arrivo qui fare 3 catenelle e poi di nuovo le mie 10 maglie alte quindi se avete visto io da qua ho camminato lungo l'uomo non so se si vede bene da qua che sono arrivata qui ho fatto il cammino lungo 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 qua e adesso ho fatto ho lasciato due archetti vuoti ho fatto 3 catenelle adesso faccio la stessa cosa che in fondo quindi 10 maglie scusa 10 maglie alte poi qua una maglia bassissima è la stessa cosa e lascerò dall'altra parte vediamo se riesco a lasciare queste due senza niente con un dicesimo comitolo non sono riuscita a finire vedete non riesco a finire il giro della manica e non riesco a fare l'altra io che mi resto un altro piccolo comitolo e quindi vi ci vorrà il dodicesimo quindi per realizzare questa maglia voglio 12 gomitoli non riesce comunque anche sulla manica esce un bel lavoro ora sono arrivata alla fine non sono riuscito lasciare due vuoti come di là ma viene esce uno più questo spazio quindi va benissimo quello che faccio è che vado a chiudere questi invece di chiuderla qui al centro la chiudo qui vedete al centro invece dopo avevo creato il mio archetto faccio vedere meglio con lo so invece di andare qui in questo archetto qua sono da acqua al centro e ora chiudo e tiro il filo ecco vi faccio vedere una manica ora dovete fare l'altra manica nascondere tutti i fili e il lavoro è finito vedete qua viene così la parte sotto identica quindi andremo a nascondere veramente tutti questi filetti che abbiamo qua facciamo lo stesso lavoro dall'altra parte cerchiamo di essere simmetrici in realtà non si vedrà molto anche se non lo siete però lasciate veramente questo spazio sotto senza niente così la fine è proprio sotto la manica sembra come un degradé diciamo che siamo andati così poi in realtà vedete si chiude piccolo sembra proprio come una scalatura un degradé a livello del disegno che vi scenderà sulla spalla infatti vedrete di nuovo l'immagine di come viene portata io vi ringrazio di avermi seguito spero che questo video vi sia piaciuto e quindi bisogna usare 12 gomitoli e non 11 per poco non ne bastavano 11 grazie ancora di avermi seguito e al prossimo video non vi dimenticate scusate di mettere un like sotto il video e di seguirmi a presto ciao ciao